Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ok, manca pregon 14, purtroppo manca 20 GABBETUTOR DI MERDA COGLIONE NEL CAZZO! Che scemo, eh Bro, iscritto Hai rotto il cazzo, porco dio, hai rotto i coglioni, dopo 40 anni continuare così hai rotto il cazzo, ma bannatelo porca madonna Ha rotto il cazzo, lui Paolo, Paolo cacatini il bagno da solo Ah però sono simpatici Ha rotto il cazzo, veramente, basta, basta, non vedi che nessuno ti caga, hai rotto il cazzo, non fa ridere dopo 40 volte Non è che c'hai soldi e lo dobbiamo ascoltarti, capito? Basta, e va a fanculo a Paolo anche Ma poverio Eh, a scuola una certa ha rotto i coglioni Chi sta? Ma non è vero Giovanni, ma no Il signor guardo, vedi che affarmisco da qua vado Ti vogliono bene Giovanni, ti vogliono bene Io sono ludo Sto creando un legame col dealer cazzo Buono piccolo Stiamo Continua Oddio Continua Devi continuare Devi continuare Madre di Dios Madre di Dios Devi continuare Devi con altri 50 euro Va bene Devi continuare Madre di Dios Ti prego I 10 Oddio Bollioni Fermiamoci un cazzo di secondo Se volete cliccare di now Questa cosa vale per te Che se tu non va E gioca tranquillo Mi faccio su una sfida Dai cazzo Proviamo a 1000 5 E poi 1.5 e 2 Bancostra Abbiamo una coppia mista di 2 4 Pagamento 6 Sprittiamo Facciamo un cazzo Carta su 4 15 Abbiamo un numero morbido Grazie per le predesigioni Visto Ormai vedo che la gente Un po' in automatico Riesce a farlo Zio cane Che non devo stare a spiegare Che ho 84 volte di fila Io sono da iPad Da iPad È la stessa cosa Che ho fatto vedere da telefono Bro Stessa cosa Che ho fatto vedere da telefono Sara sblocca la cartellina E a lire Pur le cucciole qua A farsi la bingata Dei Simpson Stasera Minchia che contenuto Di alto livello Cazzo Lucara sblocca la cartellina Io sono gay Ci sta Esplodi 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 Cristo Leale Leale Bello Continua Bello 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 Cazzo Non posso urlare Non posso urlare Continua 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 I dieci I dieci Continua 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 E come I jack Cazzo Guarda se mi chiudeva I cazzo Di timoni Esplosa Col per uno Frate ma che cazzo Dici Ma che cazzo Di puttanata è Non ce lo poteva da prima Vaffanculo Mi aveva preso per il culo Bitcoin bro Ci ha dato Il simbolo di Bitcoin Quello che vale di più Bastante Dacci max mega Voi se adesso Fai un altro Dai poi scappiamo Dai win Buono Si buone Scappiamo bro Per l'ultimo Scapiamo Mi hanno preso i tre No L'ultimo No Continua Continua Mi hai fatto dai pazzo si rudolf si rudolf cazzo bravo 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 rudolf silenzio tutti quanti madonna a 16 contro il 6 ti prego 16 26 piccolo ok no vi ringrazio non ringrazio a caso cioè io vi prenderei vi svinguazzerei la cappella se me lo chiedereste capito bro cosa scusate non spaventatevi non guardatevi male non guardatevi male il mio lavoro è il mio lavoro grazie john slinguazzami la cappella allora che cazzo di win porca puttana porca puttana andiamo a scioppare qualche bonus a slot sconosciute lega si offra mega ways quanto stai e ho prelevato 2002 prelevato ho prelevato 2002 mosto a 660 ultimo spin vediamo se ci regala qualche altra emozione vediamo se ci regala qualche altra emozione basta morta pazzo però pazzo pazzo bravo a bet 40 centesimi ma di che stiamo a parlare c'è quasi un 10 mila cos'è altra emozione altra emozione che ne pensi di questa accoppiata con la feta non è male papi ciao caro ben arrivato la testata per favore da parte mia nooo stiamo a 5 centesimi nooo che io le faccio troppo male grazie 10 c'è il maio il sotto cavolo viola e seta non era il cavolo rosso no cavolo rosso viola non è un cavolo cavolo ecco qua eccola qua si ma è incredibile però io chiedo un 8 giri non ne chiedo 14 o 12 8 giri ti chiedo 7 giri pure mi vanno bene eh questa trolla le prime due sono state gentili questa trolla porco dio come trolla questa eh che maniaca eh però si stacca pure stasera si mette a fare i capricci un bonus buono 3 euro 3 cazzo di euro di far aprire gli occhi alle persone su chi fa le cose fatte bene e chi invece fa le porcherie però vedo che è una battaglia persa continua quindi è inutile andiamo un attimo al crazy oh cucciola ma che cazzo vuoi tu sei una birbante sei eh tu sei una birbante sei madonna puttana che cazzo ha fatto questa cosa ti posso dare del bro eh vai tranquillo mio figlio mi chiama bro ormai ah che grande che grande che grande ma quanti anni ha tuo figlio te l'ho già detto prima ah si 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 la racconta di San Donato Milanese ah era da mia età la mia età giusto non nemmeno 2003 hai detto ah 2003 si non nemmeno non nemmeno vabbè ci sta e tu guarda qual è la tua slot comunque sta camp fa veramente cacare ecco qua qua si vede bene più mille otto minuti fa ragazzi cioè non mi sembra che debba darvi una pappetta pronta ogni sera però porco dio se Goku ha la merda nel cervello insomma è 70 bro dai dai sto cazzo di 70 brava piccola porco dio Goku infame